In occasione della Biennale della Grafica 2024, Eni ha inaugurato la mostra Cane a sei zampe, la storia di un'icona che guarda al futuro, in esposizione all'Adides Eye Museum di Milano. Attraverso una narrazione fatta di pagine pubblicitarie, disegni e manuali, Eni illustra la propria identità in continua evoluzione dal 1953 fino ad arrivare ai giorni nostri, con l'avvio di un percorso di rebranding intrapreso a partire dal 2022. Antonio Funicello, Head of Identity Management di Eni. È una presenza, quella del Cane a sei zampe, molto familiare per tutti gli italiani, è il nostro simbolo. Si tratta di raccontare attraverso l'evoluzione del brand l'evoluzione dell'azienda. E perché raccontarlo qui al Museo del Design? Perché d'altronde questa è la casa del design italiano, tutti i visitatori possono fare un viaggio nel design italiano del Novecento, ma anche nella storia industriale ed economica, non solo del Novecento, ma anche negli ultimi 24 anni del nuovo secolo. È un'azienda che sperimenta costantemente, è un'azienda che da sempre ha una profonda propensione per l'innovazione e per la sperimentazione, che si mette in discussione, perché in un mondo che si trasforma così velocemente, devi metterti in discussione se vuoi svolgere una funzione di leadership. E certamente l'ENI è una grande azienda leader del sistema paese e vuole conservare questo ruolo. ENI, da sempre vicina al mondo dell'arte e della cultura, racconta la storia della propria comunicazione visiva attraverso un'installazione ispirata a una delle prime e più iconiche stazioni Agip, in partnership con l'ADI Design Museum. Luciano Galimberti, presidente ADI. Vuole raccontare il miglior Made in Italy, il Made in Italy che è frutto di un progetto, appunto di design, come in questo caso, e di due soggetti che da 70 anni si occupano di valorizzare questa idea di Made in Italy attraverso il design. L'occasione del rebranding è un'occasione importante, perché un brand non semplicemente rappresenta un'immagine, ma sintetizza valori e azioni importanti e quindi questioni di rapporto con quello che è la costruzione di un valore di cittadinanza. Esattamente come quello che è il ruolo di un museo, non tanto celebrare semplicemente la storia, ma costruire un valore identitario con la cittadinanza. Quindi il rapporto tra ENI e ADI sembrava particolarmente opportuno e siamo sicuri che avrà grande futuro. Grazie